Abbiamo contato la prima parte con gli illustri relatori sul piano strategico di analisi del conflitto ucranico. Qui in questa fase scenderemo invece su un piano un po' più tattico operativo per comprendere come l'aeronautica militare si è adattata o sta adattandosi a quelle che sono le lezioni apprese durante il conflitto. Il primo punto è chiaramente non è un pensiero che nasce da zero. C'era già una traiettoria che è stata seguita negli ultimi dieci anni in tutto quello che è l'ammodernamento, l'addestramento, la logistica, però alcuni aspetti sicuramente sono immersi. È chiaro che noi abbiamo visto per la prima volta i russi da vicino. Cosa esattamente loro applicano nelle loro tattiche, nella loro operatività. Ci hanno sorpreso su alcuni aspetti, alcuni aspetti erano estremamente conosciuti. Non parlo della guerra di terra perché ne ha già parlato ampiamente il capo di stato maggiore dell'esercito, ma quella sicuramente è una cosa che non ci aspettavamo. Pensavamo che lo sfondamento delle linee sarebbe stato molto più rapido. Sicuramente i droni lo sapevamo che sarebbero stati usati, ma non con questa intensità e con questa anche artigianalità. Gruppi si sono organizzati per utilizzare queste armi, questi sensori e questi mezzi in maniera abbastanza innovativa e sorprendente. E poi una cosa che riguarda prettamente l'aeronautica militare è sicuramente l'aspetto dei missili personici che sono entrati per la prima volta nel campo dell'impiego. Quindi noi come aeronautica militare e nell'ambito della NATO siamo molto bravi quando lavoriamo su sistemi che sono fast, che viaggiano sulle quote low, medium, high e quando hanno una taglia, una dimensione, una radar cross section, una riflettività che è di classe media. Il problema nasce quando a un certo punto ci troviamo con dei droni che volano molto slow, utilizzano quote molto basse e sono in dimensioni molto piccole. Questo è un sviluppo che noi dobbiamo in qualche modo diventare più bravi di quello che siamo adesso. E sicuramente anche nella parte missilistica, sto parlando dei sistemi ipersonici, con velocità ipersonica, con quote che vanno da medio a alta quota e con sempre radar cross section molto basse diventa un serio problema. Quindi i campi della velocità e i campi della radar cross section sono quelli che ci stanno mettendo più, ci stanno facendo fare delle riflessioni. Però come vi dicevo non è che con la guerra in Ucraina abbiamo fatto 90 gradi a destra cambiando completamente le nostre strategie. Le strategie per noi, chiaramente, guardando l'ambiente operativo attuale, vedono sempre la modularità e la scalabilità come uno dei fattori principali. Non c'è una soluzione, non si dice in inglese, si dice one size fits all. No, dobbiamo essere in grado di adattarci alla situazione che è in atto, quella dell'ambiente operativo. Quindi adattamento continuo. Quindi continuare a studiare, a smettersi a fare analisi e autocritica. Le tre principali linee con cui noi ci indirezziamo in questo momento, ma lo erano precedentemente anche il conflitto, è sicuramente la formazione avanzata, sicuramente la connettività e poi parleremo anche di interoperabilità e sicuramente parleremo di sicurezza e resilienza. Partiamo dall'ultimo. Quindi questi sono i tre punti che andremo un po' ad analizzare. Il primo, sicurezza e resilienza. Abbiamo fatto una, chiaramente, è lampante che non possiamo più permetterci di avere solamente delle grandi basi dove tutte le forze sono allocate. È impressionante vedere come un piccolo drone da probabilmente meno di 10.000 euro ha colpito un AWACS, lo chiamo AWACS per capirci, è un stay russo, distruggendo un aeroplano che per valore strategico di impiego e operativo di variate decine di milioni di euro. Quindi stiamo riguardando le nostre basi, non solo quelle che utilizziamo mediamente per l'attività combat, ma anche quelle, diciamo che, passatemi il termine, minori. Queste basi dovranno essere capaci di ospitare componenti combat, cosa che in questo momento non è proprio così. Perché? Perché chiaramente negli anni ci siamo concentrati più a rinforzare solamente alcune installazioni. Di questo è importante sottolineare che anche gli americani, con il concetto dell'Agile Combat Employment, ci stanno dicendo, e lo stanno dicendo in ambito Nato, attenzione, perché abbiamo bisogno di lavorare con voi e non lavorare dalle basi storiche, quelle che abitualmente abbiamo visto, per esempio, durante il conflitto in Kosovo. Potremmo lavorare anche da altre installazioni che non abbiamo ancora visto e quindi dobbiamo essere in grado di poterlo fare. Seconda cosa è l'addestramento, la formazione avanzata. Ne ha parlato ampiamente i due precedenti relatori e qui, chiaramente sto parlando della dimensione aerea, per noi sono due programmi importanti, sono IFTS, International Flight Training School, che abbiamo aperto in Sardegna presso la base di Deciomomannu, dove chiaramente facciamo formazione sia dei piloti nazionali sia dei piloti internazionali. Stiamo stimando circa 80 studenti l'anno, questo è l'obiettivo finale, per circa 8.000 ore di volo, per farvi giusto dare alcuni indicatori, però non è un addestramento, è un addestramento al combattimento, quindi stiamo utilizzando delle tattiche e delle tecniche che si chiamano, in gergo tecnico, in modo che voi lo conoscono, live, virtual e constructive, cioè stiamo creando degli scenari molto complessi, è un addestramento avanzato, non è semplice so andare in volo e so usare la mia macchina, ma so interagire con tutto quello che poi mi troverò a poter utilizzare in una reale campagna aerea, chiedo scusa. OT&I, questo è l'eitmotiv che fra un po' diventerà, insomma, lo hai già, ma lo diventerà sempre di più, operational training infrastructure, l'IFTS è la scuola di formazione, preparo gli uomini, l'OT&I è la palestra, se non abbiamo una buona palestra, i nostri equipaggi, e non parlo solamente di quelli italiani, ma quelli, qui entra il concetto di interoperabilità, non possono lavorare insieme e quindi dobbiamo creare degli scenari complessi, scenari complessi vuol dire che devono, gli equipaggi, avere l'esperienza di vedere cosa succede quando c'è un volo, un cruise missile, quando ci sono i droni in volo, quando c'è fuoco d'artiglieria e tutto questo deve essere chiaramente assimilato come esperienza e qui ritorniamo al discorso di prima, sulle aree addestrative, sui poligoni e quant'altro. Tutta questa attività sta svolgendosi, anche questa in Sardegna, non a caso, perché noi vogliamo che l'addestramento dei nostri equipaggi sia anche contaminato da queste palestre, ma non sono, questa palestra non è solo per gli FTS, è per tutti gli equipaggi della Nato e non solo e chiaramente prevede un ragionamento molto specifico sull'F35 e sulla capacità di integrazione. Poi la proiettabilità. A luglio di questa estate noi faremo questa campagna e ci porteremo sia prima in Australia e in Giappone. Potevamo scegliere la strada dall'altra parte, verso gli Stati Uniti, sarebbe stato molto più facile, perché la logistica, l'interoperabilità con gli americani è molto molto semplice. Abbiamo scelto la strada più difficile, Maldive, Qatar, Singapore, il carburante, i mezzi logistici per scaricare i velivoli, tutta la logistica, diciamo, connessa al trasportare tutti questi assetti, è per noi importante comprenderle. E solo attraverso questa esperienza noi diventeremo molto più bravi. L'abbiamo fatto già una volta, quest'anno, ma è stata una piccola campagna. Qui stiamo cominciando a prendere un po' gli steroidi e diventare un po' più bravi. Sia l'interoperabilità connessa anche alla logistica. Il nostro sogno. Noi abbiamo bisogno di parlare con tutti. Non guardateli solo, questa è una slide che si vede spesso, con tutte queste linee di interconnessione. Ora, io sono un pilota abbastanza vecchietto. Ho perso lo sguardo delle aquile e l'artiglio delle aquile. E alla mia esperienza di guerra in Kosovo, la connettività, sapete che cos'era? Era la radio. Io parlavo con la mia voce, con i JTAC a terra. E devo dire che un po' di errori di sistema perché allora non c'era GPS. Un po' perché quello era un americano che aveva la patata in bocca. Un po' perché io non sono di lingua madre. Mi sono trovato in più di un'occasione, purtroppo devo dirlo, a perdere, dico perdere, tanto tempo per trovare l'obiettivo a terra. No, questo non è più possibile. Questa connettività non è una connettività voce, ma una connettività dati. Già l'INX16 ci permette di fare questo, ma non è quello che noi stiamo appuntando. Oggi i due velivoli F35, anche di nazioni diverse, parlano e possono parlare, non vuol dire scambiano dati e informazioni in una dimensione molto molto importante. Noi vorremmo che questo però venisse con tutti gli assetti, quelli a terra, quelli in mare, i posti di comando e controllo, la logistica, eccetera, eccetera. Quindi nella nostra linea di sviluppo, chiaramente vedete c'è l'F35, ma c'è anche il GCAP e poi chiaramente sono entrati in gioco, proprio per quella sfida che vi ho detto, dello small dei droni e dei missili ipersonici, sistemi in batterie che purtroppo abbiamo perso questa capacità nel tempo, non l'abbiamo più sviluppata e stiamo cercando con fatica di riprenderla, anche appoggiandole a chi ha esperienza nel campo dell'esercito, sicuramente ci stanno aiutando in questo. Poi chiaramente la capacità di proiezione, tanker, trasporto e anche chiaramente la componente alla rotante. Lì ci stiamo facendo delle riflessioni, infatti vedete l'immagine un po' sfumata perché stiamo cercando di comprendere come proiettare forze su campi non preparati. E poi la parte ISR, comando e controllo, droni e satellite. Queste sono le nostre linee di sviluppo e chiaramente su questo si aprono le grosse sfide che riguardano i nuovi domini. Se sul dominio aereo, diciamo siamo esperti, quando andiamo chiaramente sul dominio spaziale, sul dominio cyber, si aprono degli scenari e degli orizzonti che noi stiamo cercando di investigare, speculare e comprendere. In particolare, leggo qui gli appunti che il capo di SMA ci ha lasciato. L'attuale assetto organizzativo del dominio spazio, della difesa, che vede una pluralità di attori concorrenti all'interno del di Castero, è opportuno avviare un'adeguata riflessione volta a una razionalizzazione dell'attuale governance. Probabilmente la governance allo spazio in italiano è ancora un po' frammentata, in vista di un efficientamento ai processi e una maggiore efficacia dei rapporti tra il di Castero e Difesa e le varie entità nazionali ed estere operanti nel settore. In tal senso, si ritiene indispensabile individuare all'interno del di Castero un soggetto unico che svolga il ruolo di force provider nel campo dello spazio militare e che possa interfacciarsi in modo univoco, efficace e paritetico con i Paesi alleati e partners. Una tale visione, peraltro, va nella direzione di un allenamento dottrinale e ordinativo con le best practice della maggior parte dei Paesi alleati nel settore spazio militare, i quali hanno univocamente individuato specifici force provider delle capacità spaziali, la Space Force americana, l'Armé dell'Air e della Space francese e la RAF inglese. La stessa organizzazione NATO pone sotto Aircom le competenze del settore, rimarcando la naturalità e la necessità di un'estensione della capacità operativa dello strumento aereo verso lo spazio extra atmosferico. Noi ci candidiamo in questo settore, noi riteniamo che l'aeronautica militare possa sviluppare attività nello spazio e quindi essere in qualche modo un suo prolungamento. Vedete, qui ci sono alcune azioni, il monitoraggio dell'ambiente spaziale noi abbiamo la capacità di fare la sorveglianza dello space weather, accesso allo spazio stiamo pensando al lancio avioportato che chiaramente permette di avere una risposta molto più rapida. Integrazione dei servizi spaziali nelle capacità operative dell'AM, stiamo parlando di piattaforme stratosferiche e speriamo che quest'anno finalmente possiamo vedere un primo prototipo e via via con anche il volo umano spaziale. Volo umano spaziale e attività di cooperazione con le altre nazioni. Germania e Francia fanno già parte di questo Combined Space Operation Initiative e hanno chiesto all'Italia di poter entrare parte di questo forum. forum che per noi ha chiaramente importanza dal punto di vista dottrinale, degli standard di interoperabilità e di avere un linguaggio comune. Tenete presente che per fare un esempio la stazione spaziale internazionale viaggia tra i 330 e i 430 chilometri di quota. Viaggia 27.600 chilometri orari, circa 7 km al secondo. Loro vedono per 15 volte, fanno il giro della Terra in un giorno e sopra di noi passano circa, quando compaiono all'orizzonte, quando spariscono, ci vogliono circa 6 minuti. Quindi sono tempi molto molto concentrati e per chi, e stiamo guardando una stazione spaziale internazionale che sappiamo tutto, ma quando cerchiamo satelliti, quando cerchiamo oggetti che rientrano sulla Terra o detriti che dobbiamo monitorizzare, è una sfida incredibile e questo non può essere fatto da una singola nazione, ma semplicemente tutte le nazioni devono puntare gli occhi e vedere che cosa sta succedendo e devono dialogare per poter fare l'endover e il takeover tra una nazione e l'altra. Sul volo umano spaziale, il 29 giugno abbiamo fatto il primo volo suborbitale, è chiaramente un'esperienza pionieristica per noi, ma abbiamo compreso molte cose di cosa avviene in quella quota in cui non si orbita e non si vola. E poi c'è a gennaio qui, finalmente abbiamo Villa Dei che va alla stazione spaziale internazionale utilizzando due piattaforme, SpaceX, il razzo vettore, che è la novità assoluta su questo settore, e la navicella Axiom che è un'altra novità assoluta. Quindi abbiamo un astronauta che finalmente può avere un'esperienza con quello che è l'avanguardia in campo occidentale per l'accesso dell'uomo allo spazio. E questo riguarda lo spazio. E ho quasi finito. Sulla parte invece cyber, sulla parte cyber il punto di dobbiamo adattarci rapidamente ai cambiamenti. Abbiamo scoperto tante cose, ne ha parlato ampiamente di tutti questi attacchi. Siamo sì resilienti, ma non ci basta. Noi dobbiamo integrare le operazioni cyber con tutte le altre, di tutti gli altri domini, terrestre, marito, navale. Dobbiamo cercare di avere un vantaggio su questo aspetto. Ed è una sfida abbastanza complessa. Quindi il nostro approccio non è quello che avete sentito più o meno negli ultimi anni della cyber defense e cyber security, cioè mi proteggo. Ma sfrutto il dominio cyber per poterlo mettere a fattore comune con tutte le altre possibilità che abbiamo sugli altri domini. E questa è sicuramente una sfida che non implica solamente un problema capacitivo, ma anche un problema di natura conoscitiva e anche politico. Ultimo aspetto riguarda l'intelligenza artificiale. Allora, sull'intelligenza artificiale chiaramente ci sono milioni di sfaccettatura che nascono. Noi cosa crediamo? Allora, sicuramente qualcuno ha paura dell'intelligenza artificiale perché prende il controllo e possa utilizzare le armi per poter decidere vita e morte nel campo di battaglia. Noi non crediamo in questo, non crediamo che questo sia... cioè dare il grilletto in mano all'intelligenza artificiale non credo che sia questa la strada. Però c'è una parola magica che a noi piace sull'intelligenza artificiale. Se provate a approcciare l'intelligenza artificiale con questa parola magica, improvvisamente diventa tutto più chiaro. La parola magica è predizione. Predizione. Predizione non è certezza, è alta probabilità che qualcosa succeda. Se noi attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso i nostri database, riusciamo a comprendere qual è la predizione futura in certi settori, possiamo prendere delle decisioni migliori. Faccio un esempio. Noi conosciamo tutto sui nostri motori dell'Eurofighter, però siccome sono stati costruiti secondo una certa logica, dopo un certo numero di ore devono essere sbarcati e portati in revisione. Se però tutta quella conoscenza di quel motore e della vita di quel motore viene posto in un'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale impara e ci dà delle indicazioni, noi sapremmo che invece di farlo smontare quel giorno possiamo sfruttare altre 100 ore e quindi ci dà la possibilità di avere maggiore utilità. Ho fatto un esempio ma ce ne sono in tantissimi settori. Il settore della predizione nel campo logistico è quello che poi a noi ci interessa molto di più, perché sapere tutte le nostre risorse, parlo dalle risorse materiali, le risorse umane, le risorse infrastrutturali, devono essere in qualche modo costantemente analizzate e comprese e se noi siamo in grado di vedere un po' più avanti dove si parla il problema potremmo trovare la soluzione. Ecco con questo avrei concluso. Grazie.